Il delicato equilibrio del mare è sempre più minacciato dall'eccesso di plastica e dalla diminuzione drastica dei pesci dovuta all'overfishing. Senza un'azione drastica la plastica potrebbe superare in peso tutti i pesci nell'oceano entro il 2050. È l'avvertimento lanciato da Antonio Gutierrez, segretario generale delle Nazioni Unite, nell'ultima conferenza dell'ONU sugli Oceani a Lisbona già nel giugno del 2022. Un allarme rilanciato da Marevivo in occasione della giornata mondiale degli oceani. Un appuntamento che deve rappresentare un momento di presa di coscienza della necessità di agire con la massima urgenza, come ricorda Rosalba Giugni, presidente di Marevivo. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, il mare urla, guardate queste immagini, più plastiche che pesci nelle reti dei pescatori. Cosa stiamo aspettando? Noi chiediamo fortemente al governo di realizzare i decreti attuativi della legge salva mare. Non c'è più tempo.